Dopo la tempesta sul mercato dell'energia è tempo di normalizzazione dei prezzi e gli effetti potrebbero essere presto visibili anche in bolletta. La discesa delle quotazioni del gas è stata vertiginosa. Sulla borsa olandese TTF sono precipitate al minimo di 52 euro per megawattora, quasi un terzo dei 140 euro registrati a inizio ottobre e ben lontani dal record di 342 euro di agosto 2022. Con il prossimo aggiornamento delle tariffe al consumo il 2 di febbraio anche le utenze delle famiglie italiane potrebbero beneficiarne con un taglio della spesa per il metano stimato da un minimo del 20% a un massimo del 35%. Un ribasso che seguirà quello già registrato sulle tariffe elettriche appena diminuite del 19,5% e che nel secondo trimestre potrebbero scendere di un ulteriore 20% come calcola Nomisma. Un risparmio per famiglia di 614 euro. Merito di più fattori, il nuovo meccanismo mensile per il calcolo delle bollette, il meteo particolarmente clemente, il forte calo della domanda da parte dell'industria, la competizione di rinnovabili e nucleare, gli stoccaggi ancora ben forniti. E proprio su quest'ultimo fronte è arrivata la missione da parte del vice cancelliere tedesco Robert Abeck. Ad agosto abbiamo distrutto il mercato del gas a ferma, ma la nostra missione era di riempire gli stoccaggi e certo, così facendo, abbiamo fatto salire i prezzi fino a 350 euro a megawattora, ma credo che abbiamo fatto la cosa giusta.